Terza corsa premio Villa Ada, anche questa è inserita nel palinsesto dell'Ippica nazionale, una prova per indigeni di tre anni, non vincitori di 6.000 euro. Non corre il numero uno di Melita, quindi rimangono in 14 al via, due file da 7 con Matrix Rob, Mitica La Solo, Monzon Fez, Magic Johnson, Mimi Del Ronco, Mergi Wise, Aes, Millionaire UR in prima fila, Malaise, DSM, AUS, Marcos Mac, Martin Vellange, Monello Iorio, Mirtilla Barre, Marduk, Guasimo in seconda. L'errore prima dello stacco della macchina del numero 4, Monzon Fez, anche l'errore di Mitica La Solo, e al comando si porta Matrix Rob che va a precedere Monzon Fez, quindi Marcos Mac e più indietro gli altri. Prima curva con Matrix Rob che prosegue, mentre ha sbagliato anche Magic Johnson, così come Mergi Wise, Aes. 400 che vanno in 29.8 con sempre Matrix Rob al comando su Monzon Fez e Marcos Mac, Mimi Del Ronco che ha all'esterno Millionaire UR e poi ancora Malaise ADS, 45.5 per i 600 con il Battistrada che prosegue di buon ritmo e ha preso un paio di lunghezze di margine su Monzon Fez, mentre dietro segue sempre Marcos Mac. 800 in un minuto e sette decimi per Matrix Rob che procede sullo slancio inseguito da Monzon Fez e i due hanno guadagnato 5 lunghezze di margine sul resto del gruppo dal quale fatica a progredire Marcos Mac che così viene sopravvanzato all'esterno dagli altri concorrenti con la terza ruota tentata anche dal numero 13 di Monello Iorio. L'errore del Battistrada Matrix Rob lascia via libera Monzon Fez quando il cavallo sta entrando in dirittura di arrivo per affrontare gli ultimi 200 metri e già ampio leader Monzon Fez che chiude con ampio margine di vantaggio mentre per il secondo posto c'è il finale di Mao West che tenta di insidiare Martin Belange ma è Martin Belange alla fine riesce a conquistare la seconda posizione su Mao West mentre quarto finisce ancora Mimì del Ronco. Vittoria per Monzon Fez Alessandro Cicognani due minuti e due secondi netti per questo figlio di Elison Hollow 1.16.3 al chilometro l'errore del Battistrada Matrix Rob sull'ultima curva ha lasciato via libera a Monzon Fez che così ha chiuso da facile vincitore con ampio margine di vantaggio su Martin Belange che dovrebbe essere riuscito a conservare la seconda posizione.